A finto di essere stata aggredita da due banditi armati di coltello e scaraventata a terra dalla bicicletta, una 43enne di cittadella alla fine ai carabinieri ha confessato di essersi inventata tutto dopo essere caduta accidentalmente dalla bicicletta mentre si stava recando al lavoro. Questo per giustificare un ulteriore stato di malattia essendo già reduce da un periodo di assenza per infermità. Per le ferite e le contusioni riportate la donna è stata ricoverata in ospedale e giudicata guaribile in cinque giorni. L'incidente è avvenuto ieri mattina in via Ponte Sauro. Grazie.